Vincent Easton stava aspettando sotto l'orologio di Victoria Station. Vincent Easton alzava di tanto in tanto gli occhi a guardarlo nervosamente e pensava quanti altri uomini hanno atteso qui una donna che non è venuta? Una fitta dolorosa lo attraversò. E se Theo non fosse venuta? Se avesse cambiato idea? Le donne sono capaci di tutto. Come essere sicuro di lei? Lo era mai stato? Cosa sapeva di lei? Non lo aveva forse lasciato perplesso sin dall'inizio? Era come se ci fossero due donne in lei, la ridente e deliziosa creatura che era la moglie di Richard Darrell e l'altra, silenziosa e misteriosa, che gli aveva camminato a fianco nel parco di Hammers Close. Pensava a lei come un fiore di magnolia, forse perché aveva assaporato il loro primo estatico e incredulo bacio sotto l'albero di magnolia. L'aria era dolcemente profumata di magnolia e uno o due petali, fragranti e soffici come velluto, erano caduti volteggiando e si erano posati su quel volto dalla pelle morbida, dolce e fresca. Fiore di magnolia, esotico, profumato, misterioso. Era accaduto quindici giorni prima, due giorni dopo averla conosciuta e adesso aspettava che venisse a lui per sempre. Provò di nuovo un brivido di incredulità. Non sarebbe venuta. Non era possibile che venisse. Se lo avesse fatto avrebbe dovuto rinunciare a tante, troppe cose. La bella signora Darrell non poteva sperare di tenere segreta la sua fuga. La notizia avrebbe fatalmente destato scalpore. Lo scandalo era inevitabile. La gente non lo avrebbe dimenticato. Un divorzio discreto sarebbe stato un metodo più prudente, più accorto per risolvere una simile situazione. Ma a questo non avevano neppure pensato, perlomeno lui. Si chiese se lei ci avesse mai pensato. Non sapeva mai niente di quello che lei pensava. Le aveva chiesto di venire via con lui quasi con timore perché alla fine lui chi era? Un uomo che non aveva nulla di particolare. Uno dei tanti coltivatori di arance del Transvaal. Che razza di esistenza poteva offrirle dopo la splendida vita che conduceva a Londra? Eppure non aveva potuto fare a meno di chiederglielo. Lei aveva consentito con molta tranquillità, senza esitare o protestare, quasi fosse la proposta più semplice del mondo. Domani, le aveva detto sballordito, quasi incredulo. E lei aveva promesso con quella sua voce dolce, roca, così diversa da quella ridente squillante che caratterizzava l'altra sua personalità, quella mondana. Quando l'aveva vista la prima volta, era stato come vedere un diamante, una pietra fiammeggiante che rifletteva luce da cento sfaccettature. Ma dopo quel primo contatto, quel primo bacio, si era miracolosamente trasformata e da pietra era diventata perla morbida e satinata, una perla simile a un fiore di magnolia. Lei aveva promesso e adesso lui l'aspettava. Guardò di nuovo l'orologio. Se non arriva subito, pensò, perderemo il treno. Di colpo fu invaso da un senso di disperazione. Non sarebbe venuta. Certo che non sarebbe venuta. Cos'è una promessa? Fu certo che tornando a casa avrebbe trovato una lettera in cui lei gli spiegava le sue ragioni, dicendo tutte quelle parole che dicono le donne quando tentano di giustificare la loro mancanza di coraggio. Provò un impeto di rabbia, rabbia e amarezza. Poi la vide arrivare lungo la pensilina con un vago sorriso sul volto. Camminava lentamente, senza fretta o agitazione, come se avesse davanti a sé l'eternità. Vestiva di nero, un nero soffice e aderente, con un cappellino nero che aureolava il meraviglioso morbido pallore del volto. Subito le afferrò la mano e le mormorò stupidamente. Dunque sei venuta? Sei venuta, dopo tutto? Ma certo. Come sembrava calma la sua voce. Calma. Pensavo che non saresti venuta, disse, lasciandole andare la mano e respirando faticosamente. Lei aprì gli occhi, occhi grandi, belli. In essi c'era stupore, il semplice stupore di un bambino. Perché? Non le rispose. Invece si voltò e bloccò un facchino che stava passando. Non avevano molto tempo. I minuti che seguirono furono agitati e confusi. Poi si ritrovarono seduti nello scompartimento riservato e guardarono sfilare davanti agli occhi le squallide case della zona sud di Londra. Teodora Darrell gli sedeva di fronte. Finalmente sua. Solo in quel momento si rese conto di quanto non vi avesse creduto sino all'ultimo momento. Non aveva osato crederci. Quella donna bella, misteriosa e sfuggente lo spaventava. Gli era sembrato impossibile che potesse mai appartenergli. Ora l'incertezza era finita. L'irrevocabile passo era stato fatto. La guardò. Sedeva nell'angolo del tutto immobile. Aveva ancora quel vago sorriso sulle labbra. Gli occhi erano abbassati. Le lunghe ciglia nere ombreggiavano la curva morbida delle guance. Si chiese A cosa sta pensando? Cosa le passa per la testa? Io? Suo marito? Cosa pensa di lui? Gli ha mai voluto bene? Oppure non gliene è mai importato? L'odia o prova per lui indifferenza? Poi si disse L'amo E non so nulla di lei Di quello che desidera Di quello che prova Il pensiero del marito continuava a tornargli il mente in modo ossessivo Aveva conosciuto molte donne Fin troppo disposte a parlare dei propri mariti Mariti che a sentire loro non le capivano Ignoravano i loro sentimenti più belli Vincent Easton Pensò cenicamente che quel genere di discorso Era uno dei più usati preludi per iniziare una relazione Theo aveva parlato solo casualmente di Richard Darrell E Easton sapeva di lui quello che sapevano tutti Darrell era simpatico a tutti Marito e moglie sembravano essere in ottimi rapporti Ma questo non significava nulla Theo era una persona ben educata Non avrebbe mai sciorinato in pubblico le proprie lamentele Tra loro non ne avevano parlato affatto Dopo la seconda sera del loro incontro Quando avevano passeggiato insieme nel giardino In silenzio Le spalle che si sfioravano Lui aveva avvertito il vago fremito che l'aveva scossa Quando l'aveva sfiorata Non c'erano state spiegazioni Lei aveva ricambiato i suoi baci Una creatura muta e tremante Spogliata da tutto quel duro fulgore Che insieme con la bellezza soffice e rosata L'aveva resa famosa Mai una volta aveva parlato del marito Allora Vincent gliene era stato grato Era stato contento Che gli fossero risparmiati gli argomenti Di una donna desiderosa di giustificare se stessa E il suo amante per aver ceduto all'amore Tuttavia ora quella cospirazione del silenzio Lo preoccupava Provava di nuovo la sensazione di panico Provocata dal fatto che non sapeva nulla Di quella strana creatura disposta a legare La propria vita alla sua Aveva paura Nell'ansia di rassicurare se stesso Si chinò in avanti e posò una mano Sul ginocchio coperto di nero Che aveva dinnanzi Ancora una volta avvertì il fremito Che la scosse e le prese la mano Le baciò il palmo Un bacio lungo, lento Sentì la pressione delle dita di lei sulle proprie E alzando gli occhi Incontrò il suo sguardo E fu soddisfatto Si appoggiò allo schienale del sedile Per il momento non voleva altro Erano insieme Lei gli apparteneva E di lì a poco chiese in tono casuale Quasi scherzoso Perché così silenziosa Lo sono davvero Si Attese un attimo Poi aggiunse in tono più grave Sei sicura di non pentirti? Lei spalancò gli occhi a quelle parole Oh no La risposta così sicura Così sincera Gli tolse ogni dubbio A cosa stavi pensando? Mi piacerebbe saperlo A bassa voce Gli rispose Credo di aver paura Paura? Della felicità Le sedette al fianco La trasse a sé E baciò la guancia morbida Il collo sottile Ti amo Disse Ti amo Ti amo La risposta Gliela diede Con la pressione del corpo Contro il suo Con l'abbandono delle labbra Poi lui tornò nel suo angolo Presi una rivista E imitato da lei Di tanto in tanto Al di sopra delle pagine I loro sguardi Si incontravano E allora sorridevano Arrivarono a Dover Poco dopo le cinque Dovevano trascorrere lì la notte E salpare per il continente Il mattino dopo Teo Entrò nel salottino Dell'albergo Con Vincent alle spalle Lui aveva un paio di giornali Della sera in mano Li gettò sul tavolo Due inservienti dell'albergo Portarono le valigie E si ritirarono Teo si scostò dalla finestra Dove si era fermata A guardare fuori Un attimo dopo Erano l'una Tra le braccia dell'altro Si udì bussare Con discrezione alla porta E si staccarono di nuovo Maledizione Esclamò Vincent Non ci lasceranno mai soli Teo sorrise Non mi sembra probabile Rispose a bassa voce Sedette sul divano E prese uno dei giornali Entrò un cameriere Che portava il tè Posò tutto sul tavolo Che avvicinò al divano Sul quale era seduta Teo Si guardò attorno Per appurare Che fosse tutto in ordine Chiese se desideravano Ancora qualcosa E quindi si ritirò Vincent che era passato Nell'altra stanza Ricomparve nel salottino Bene Adesso il tè Disse allegramente Ma si fermò Bruscamente al centro Della stanza C'è qualcosa che non va? Chiese Teo Sedeva rigida Sul divano Fissava davanti a sé Con sguardo vitrio E il suo volto Era diventato Di un pallore mortale Vincent le si avvicinò subito Cos'è successo tesoro? Per tutta risposta Lei gli porse il giornale Il dito puntato sul titolo Vincent le prese il giornale di mano Fallimento della Hobson Jekyll e Lucas Lesse Il nome della grossa società londinese Non gli disse nulla Anche se in fondo alla mente Aveva l'irritante persuasione Che avrebbe dovuto conoscerla Guardò con espressione interrogativa Teo La Hobson Jekyll e Lucas E Richard Gli spiegò Tuo marito? Sì Vincent Tornò a guardare il giornale Lesse la notizia Che veniva data Con molta circospezione Fu sgradevolmente colpito Da frasi come Crack improvviso Seguiranno gravi rivelazioni Altre società implicate Alzò gli occhi Nell'avvertire un movimento Teo si stava sistemando Il cappellino nero Davanti allo specchio Si girò Nel sentirlo muoversi E lo fissò con fermezza Vincent Devo andare da Richard Lui Scattò come una molla Teo Non dire assurdità Lei fece un gesto Verso il giornale Che era finito per terra Vincent Devo andare da Richard Ripete Teo automaticamente Ma Mia cara Questo significa la rovina La bancarotta Non posso scegliere Proprio questo giorno Per lasciarlo Lo avevi già lasciato Prima di saperlo Sì ragionevole Lei scosse la testa Ammestamente Non capisci Devo andare da Richard E non riuscì A farle cambiare idea Strano Come una creatura morbida Rendevole Potesse essere così Incrollabile Inizialmente non discusse Lo lasciò dire Quello che doveva dirle Senza interromperlo Lui la strinse fra le braccia Cercando di spezzare La sua volontà Rendendola schiava Dei sensi Ma anche se la morbida bocca Ricambiava i suoi baci Si avvertiva in lei Qualcosa di distante Ed irremovibile Che resisteva A tutte le suppliche Alla fine Si staccò da lei Stanco e sconvolto Per l'inutilità Dei suoi sforzi Dalla supplica Passò alla violenza La rimproverò Di non averlo mai amato E lei accettò Anche questa accusa Senza protestare In silenzio Solo la faccia seria E infelice Smentiva quello Di cui l'accusava Poi Vincent Si lasciò andare Alla collera La investì Con le parole più crudeli Che gli vennero alla mente Nel tentativo Di farle del male Di piegarla La sua volontà In ultimo Non seppe più Trovare parole Rimase seduto La testa fra le mani A fissare il tappeto rosso Teodora Era ferma Accanto alla porta Un'ombra scura Dal volto bianco Era tutto finito Gli disse Con voce pacata Addio Vincent Non le rispose La porta si aprì E si richiuse I Darrell Abitavano in una casa A Chelsea Una casa strana Antiquata Circondata da un giardino Di fronte alla casa Cresceva un albero Di magnolia Annerito e sporco Di fuligine Per tuttavia Sempre una magnolia Circa tre ore dopo Teo Ferma sui gradini Di casa Alzò gli occhi A guardarla Un sorriso improvviso Le contrasse le labbra Dolorosamente Passò subito Nello studio Sul retro della casa Un uomo Stava passeggiando Su e giù Per la stanza Un uomo giovane Con un bel viso E un'espressione sconvolta Grazie al cielo Si è arrivata Teo Avevano detto Che ti eri portata via Le valigie Ed è riuscita Dalla città Ho sentito la notizia E sono rientrata Richard Darrell Le mise un braccio Attorno alle spalle E la tirò A sedere sul divano Presero posto Fianco a fianco Teo Si liberò Dell'abbraccio In modo apparentemente Del tutto naturale Quanto è grave Richard Chiese con voce piana Più grave di così Non potrebbe essere Ed è dire poco Raccontami Mentre le parlava Richard ripresi A camminare Su e giù Teo rimase seduto A guardarlo Lui non poteva Intuire Che di tanto in tanto La stanza si oscurava E che la sua voce Non le giungeva All'orecchio Mentre le tornava Davanti agli occhi Una stanza Dell'albergo di Dover Tuttavia Teo Riuscì ad ascoltare E a seguire Il discorso Senza difficoltà Lui Tornò a sedersi Al suo fianco Per fortuna Non possono toccare Il tuo patrimonio E anche la casa È tua Teo Annui pensosamente Avremo comunque questo Poi vedrai Che non sarà Così terribile Significa Ricominciare Tutto qui Ah Proprio così Sì Ma il tono Della sua voce Mancava di sincerità E Teo E Teo Improvvisamente Pensò C'è qualcos'altro Non mi ha detto Tutto Non c'è altro Richard Chiese con dolcezza Qualcosa di peggio Lui esitò Per una frazione Di secondo Poi Peggio Cosa potrebbe Eserci Non lo so Rispose Teo Andrà tutto bene Disse Richard Parlando quasi Volesse rassicurare Se stesso Più che la moglie Certo Andrà tutto bene Le cinse la spalla Con gesto improvviso Sono contento Che tu sia qui Ora che mi sei vicina Tutto andrà meglio Qualunque cosa succeda O te Vero Dolcemente Gli rispose Sì Ahimè E stavolta Lasciò che lui E tenesse il braccio Sulla spalla La baciò E la strinse a sé Come se stranamente Attingesse conforto Dalla sua vicinanza O te Ripete di lì a poco E lei rispose per prima Sì Richard Le scivolò ai piedi Sono stremato Disse in tono agitato Mio Dio È stata una giornata Pazzesca Tremenda Ma non so che farei Se tu non fossi qui E in fine conti Una moglie E una moglie No Teo non parlò Si limitò A chinare il capo In cenno di assenso Le posò il capo In grembo E lei trasse un sospiro Che sembrava Quello di un bambino stanco Pensò di nuovo C'è qualcosa Che non mi ha detto Che cosa Richard Richard Mormorò sommessamente Ora che sei qui Andrà tutto bene Non mi abbandonerai Nei guai Il suo respiro Divenne lento e regolare Si era addormentato Gli carezzò la testa Con la mano Ma i suoi occhi Guardavano fissi Nell'oscurità Senza vedere nulla Non pensi Richard Disse Teodora Che faresti meglio A dirmi tutto Erano passati Tre giorni Si trovavano Nel soggiorno Prima di cena Richard Sobbalzò E avvanpò Non so che cosa intendi Ribatte Davvero? Le lanciò Un'occhiata fugace Certo Ci sono Beh Particolari Dovrei sapere tutto Non credi Se devo aiutarti? La guardò In modo strano Cosa ti fa pensare Che io voglia Il tuo aiuto? Rimase un po' stupita Mio caro Richard Sono tua moglie E improvvisamente Le sorrise Il vecchio sorriso Attraente e spensierato È vero Teo Anche una bella moglie Per di più Non ho mai potuto Sopportare le donne brutte Prese a camminare Su e giù Per la stanza Come era sua abitudine Quando qualcosa Lo preoccupava Non nego Che per un certo verso Tu abbia ragione Le disse di lì a poco Qualche cosa c'è Si interruppe Sì? È molto difficile Spiegare queste cose Alle donne Tendono a capire Sempre in modo sbagliato Immaginano Che sia Una cosa Beh Quello che in realtà Non è Teo Non parlò Vedi Proseguì Richard C'è un abisso Tra la legge E ciò che uno Ritiene giusto O sbagliato Io posso agire In un modo Che ritengo Perfettamente giusto E onesto Ma la legge Non può essere Dello stesso parere Nove volte Su dieci Tutto finisce bene Ma la decima volta Beh Ci si trova Davanti a un intoppo Teo Cominciava a capire Pensò Perché non mi stupisco Forse Perché dentro di me Nel profondo di me stessa Ho sempre saputo Che non è onesto Richard Continuò a parlare Dava spiegazioni Inutilmente particolareggiate Teo era contenta Che lui ammantasse I particolari Veri e propri Della faccenda Con quella coltre Di verbosità Si trattava Di vasti Appezzamenti Di terreno Nel Sudafrica A lei Non doveva interessare Quello che Richard Aveva fatto L'assicurò Che moralmente Tutto era onesto E pulito Legalmente Beh Ecco il punto Non si poteva Sottrarre Alla realtà Era passivo Di un'incriminazione Penale Mentre parlava Continuava a lanciare Occhiati alla moglie Era nervoso E a disagio E continuava a scusarsi Cercando di spiegare Frettolosamente Quello che un bambino Avrebbe potuto vedere Nella sua nuda verità Poi alla fine Mentre affastellava Giustificazioni Crollò Forse perché Intravide lo sguardo Di Teo Che per un momento Fu pieno di scherno Si lasciò cadere Su una sedia Accanto al camino Con la testa Fra le mani Ecco Teo Disse Cosa intendi fare Gli si avvicinò Dopo una pausa Infinitesimale E inginocchiandosi Vicino alla sedia Appaggiò il volto A quello di lui Cosa si può fare Richard Cosa possiamo fare L'attrasse a sé Dici sul serio Mi starei al fianco Ma certo Mio caro Certo Per una qualche Oscura ragione E a dispetto Di se stesso Fu spinto a dire La verità Sono un ladro Teo Detto in parole Povere Un ladro E allora Io sono la moglie Di un ladro Richard Affonderemo O ci salveremo Insieme Rimasero silenziosi Per un po' Poi Richard Riprese in parte I suoi modi Disinvolti Sai Teo Ho un piano Ma ne parleremo Dopo E ora di cena Dobbiamo andarci A cambiare Mettiti quel tuo Vestito color panna Sai Quello modello Di caillou Teo Corrugò le sopracciglia Con aria perplessa Per una serata In casa Sì Sì Lo so Ma mi piace Mettitelo Fai la brava Mi rallegra Vederti nel tuo pieno Splendore Scese a cena Con l'abito Di caillou Era di broccato Color panna Con un leggero Disegno dorato Del tessuto E uno sfondo Rosa pallido Che dava calore Al color panna Aveva una scollatura Audace Nella schiena E nulla Avrebbe potuto Essere più indicato Per mettere in rilievo Il candore Abbacinante Delle spalle Del collo Di Teo Erano effettivamente Come un fiore Di magnolia Gli occhi di Richard Si posarono Su di lei Con espressione Di calda approvazione Brava ragazza Sai Con quest'abito Sei semplicemente Straordinaria Andarono a cenare Per tutta la sera Richard apparve nervoso E strano Scherzava E rideva Senza alcun motivo Nel vano tentativo Di scuotersi Di dosso Le preoccupazioni Varie volte Teo cercò Di riportarlo Sull'argomento Di cui avevano Parlato prima Ma lui lo evitava Poi all'improvviso Mentre lei si alzava Per andare a coricarsi Venne al dunque No Non andare ancora Devo dirti qualcosa Sai Su questa infelice vicenda Teo tornò a sedersi Richard cominciò A parlare in fretta Disse che tutta la storia Con un pizzico di fortuna Si sarebbe potuta Rimediare Era riuscito A coprire Piuttosto bene Le proprie tracce Fintanto che Certi documenti Non fossero finiti Nelle mani del curatore Si interruppe In modo significativo Documenti Chiese Teo Perplessa Intendi dire Che li distruggerai? Richard fece una smorfia Le distruggerei subito Se potessi impadronirmene E' questo il guaio E chi li ha? Una persona che conosciamo entrambi Vincent Easton A Teo Sfuggì una lieve esclamazione Si costrinse a soffocarla Ma Richard l'aveva notata Sospettavo che sapesse qualcosa Di questa faccenda Per questo L'ho invitato qui spesso Ricorderai che ti avevo chiesto Di essere carina con lui Ricordo Rispose Teo Non so perché Ma non sono mai riuscito A diventargli veramente amico Non ne capisco la ragione Ma tu gli sei simpatica Direi proprio Che gli piaci molto Con voce chiarissima Teo rispose Si è vero Ah Commentò Richard Con un tono di soddisfazione Ne sono molto lieto Ora capisci che cosa intendevo Sono convinto che se tu andassi Da Vincent Easton E gli chiedessi di darmi Quelle carte Lui non rifiuterebbe Una graziosa signora Sai come succede? Non posso farlo Si affrettò a rispondergli Oh sciocchezze Non se ne parla nemmeno Delle macchie rosse Comparvero lentamente Sul volto di Richard Lei si rese conto Che era arrabbiato Mia cara Non penso che tu Ti renda veramente conto Della situazione Finirò in prigione Sarà la rovina La vergogna Vincent Easton Non userà Quei documenti Contro di te Ne sono sicura Non è questo il punto Potrebbe Non realizzare Che sono incriminanti Per me Solo considerandoli Insieme con Con i miei affari Con le cifre Che finiranno Per rilevare Non posso Addentrarmi Nei particolari Mi rovinerà Senza sapere Quello che fa A meno che qualcuno Non gli esponga La situazione Ma puoi farlo tu Scrivigli Non servirebbe A un bel niente No Teo Abbiamo una sola speranza Tu sei l'asso Nella manica Sei mia moglie Devi aiutarmi Vai da Easton Stasera Teo Proruppe in un grido No Stasera No Forse domani Mio Dio Teo Ma non capisci Domani potrebbe Essere troppo tardi Se tu potessi Andare subito Immediatamente A casa di Easton La vide Sussultare E cercò di rassicurarla Lo so mia cara Lo so È una cosa orribile Ma si tratta Di vita o di morte Teo Non vorrei abbandonarmi In un momento simile Vero Hai detto che faresti Qualunque cosa Per aiutarmi Teo Udi la propria voce Dura e secca Non questo Non me lo chiedere Ho le mie ragioni Si tratta di vita o di morte Teo Parlo sul serio Guarda Aprì un cassetto Della scrivania E presi una pistola Se in quel gesto C'era qualcosa Di melodrammatico A lei sfuggì O ci vai Oppure mi sparo Non riuscirò Ad affrontare Lo scandalo Se non farai Quello che ti chiedo Prima di domattina Sarò un uomo morto Te lo giuro Solennemente Teo Ebbe un gemito Soffocato No Richard Questo no E allora aiutami Buttò la pistola Sul tavolo E si inginocchiò Accanto a lei Teo Amore mio Se mi ami Se mi hai mai amato Fai questo per me Sei mia moglie Teo Non ho nessun altro A cui rivolgermi La sua voce Continuava a ripetere A mormorare A supplicare E alla fine Teo Udì la propria voce Dire Va bene Sì Richard L'accompagnò Alla porta E la mise Su un taxi Teo Vincent Easton Si alzò di scatto Con gioia incredula Lei Era ferma Sulla soglia Con la cappa Di ermellino Che ricadeva Dalle spalle Mai Pensò Easton Gli era apparsa Tanto bella Dunque sei venuta Mentre le si avvicinava Lei tese una mano Per fermarlo No Vincent Non si tratta Di quello che pensi Parlava Frettatamente Con voce bassa Sono qui Da parte di mio marito Lui pensa Che vi siano Certi documenti Che potrebbero Danneggiarlo Sono venuta A chiederti Di darmeli Vincent Rimase Completamente immobile La guardava Poi Fece una risata secca Dunque si tratta Di questo L'altro giorno Mi era parso Che i nomi Hobson Jekyll e Lucas Avessero un suono Che mi era familiare Ma al momento Non ero riuscito A ricordare Non sapevo Che tuo marito Avesse a che fare Con quella società È da un po' Che là dentro Le cose non vanno bene Avevo avuto L'incarico Di esaminare La faccenda Sospettavo Di qualche dipendente Non avrei immaginato Si potesse trattare Dell'uomo Al vertice Theo non disse nulla E Vincent La guardò Con curiosità Per te Non cambia nulla Vero? Le chiese Che Beh Per dirla In parole chiare Che tuo marito Sia un truffatore Lei scosse il capo Non capisco Commentò Vincent Poi aggiunse Con voce calma Vuoi aspettare un momento? Vado a prendere i documenti Theo prese posto Sulla sedia Lui passò Nell'altra stanza E di lì a poco Tornò E le mise Nella mano Un pacchettino Grazie Disse Theo È un fiammifero? Prese la scatola Di fiammiferi Che lui le aveva A porto Si inginocchiò Accanto al camino E quando le carte Furono ridotte in cenere Si alzò Grazie Ripetè Non c'è di che Le rispose formalmente Lascia che ti chiami Un taxi L'aiutò a salire Sul taxi La vide Allontanarsi Una strana Piccola visita Formale Dopo il primo momento Non avevano neppure Osato guardarsi In viso Beh Era finita Se ne sarebbe Andato all'estero Avrebbe cercato Di dimenticare Theo Sporse la testa Fuori dal finestrino E parlò con il taxista Non se la sentiva Di tornare subito A Chelsea A casa Aveva bisogno Di alcuni momenti Di solitudine Per rimettersi Rivedere Vincent L'aveva scossa In un modo terribile Se solo Se solo Ma si fece forza Non provava nemmeno Un po' di amore Per suo marito Ma gli doveva lealtà Lui era a terra Doveva stargli vicina Qualunque altra cosa Lui avesse fatto L'amava E il crimine Che aveva commesso Era contro la società Non contro di lei Il taxi procedette Per le larghe strade Di Hampstead Raggiunsero la brughiera Dove una ventata D'aria fresca E corroborante Alitò sulle guance Di Theo Aveva ripreso Il dominio di sé Ora E il taxi tornò indietro Dirigendosi verso Chelsea Richard Le andò incontro Nel vestibolo Beh Disse Ci hai messo un bel po' Davvero? Sì Un bel po' Tutto Bene Bene La seguì con un'espressione Astuta negli occhi Gli tremavano le mani Va tutto Bene Eh? Ripetè Li ho bruciati io stesse Oh Theo Entrò nello studio E si lasciò cadere Nella grande poltrona Il suo volto Era di un pallore mortale E tutto il corpo Tremava per la stanchezza Pensava Se potessi addormentare ora E non svegliarmi più Richard La osservava Il suo sguardo cauto e furtivo Continuava a posarsi su di lei E a scostarsi Ma lei Non se ne accorse Non era più in grado Di accorgersene È andato tutto bene Lei se la scrollò di dosso Non toccarmi Cercò di ridere Mi spiace Richard Ho i nervi tesi Sento che non sopporto di essere toccata Lo so Capisco Di nuovo Lui presi a camminare Su e giù Theo Esplose all'improvviso Mi dispiace moltissimo Come? Chiese lei Alzando gli occhi Vagamente stupita Non avrei dovuto Lasciarti andare lì A quest'ora Non mi sarei immaginato Che potessi essere Sottoposta a Cose spiacevoli Spiacevoli? Lei rise La parola parve divertirla Ma tu non sai Richard Tu non sai Non so che cosa Lei Disse con espressione austera Guardando fisso davanti a sé Che cosa mi è costata questa sera? Mio Dio Theo Io non immaginavo Hai fatto questo per me? Quel porco Theo Theo Non potevo sapere Non potevo intuire Mio Dio Le si era inginocchiato accanto E ora balbettava Le braccia attorno alla vita di lei Che si girò a guardarlo Vagamente stupita Come se le sue parole Fossero finalmente Realmente penetrate Risvegliando la sua attenzione Io Io non intendevo Mai Non intendevi che cosa Richard La sua voce lo fece sobbalzare Dimmi cosa non intendevi mai Theo Non parliamone Non voglio saperlo Non voglio nemmeno pensarci Lei lo fissava del tutto sveglia ora Ogni suo senso era allerta E le parole furono chiare e nette Non intendevi mai Che cosa pensi sia successo Che cosa pensi sia successo Non è successo Theo Diciamo che non è successo Ma lei continuava a fissarlo Fino a che si rese conto della verità Tu pensi che Non voglio Lo interruppe Pensi che Vincent Easton Abbia chiesto un prezzo per quelle lettere Pensi che io Lo abbia pagato E in tono debole E poco persuasivo Richard rispose Io Io non mi sarei mai immaginato Che fosse un uomo del genere Davvero? Lo guardò con occhi penetranti Costringendolo ad abbassare i propri Perché mi hai chiesto D'indossare quest'abito stasera Perché mi hai mandata sola A quest'ora di sera Avevi intuito che Lui si interessava a me Volevi salvarti la pelle Salvartela a qualsiasi prezzo Anche a prezzo del mio onore Si alzò Ora capisco Era questo che intendevi sin dall'inizio O quantomeno L'hai considerata una possibilità E non l'hai scartata Teo Non puoi negarlo Richard Pensavo di sapere da anni su di te Tutto quello che c'era da sapere Ho capito sin dall'inizio Che non ti comportavi in modo onesto Nel lavoro Ma pensavo che tu fossi onesto con me Teo Puoi negare quello che ho appena finito di dire? Lui rimase in silenzio Suo malgrado Ascoltami Richard C'è qualcosa che devi sapere Tre giorni fa Quando ti è cascato addosso questo colpo La servitù ti aveva detto Che ero andata via In campagna Era vero Ma solo in parte Ero andata via con Vincent Easton Richard fece un suono inarticolato Ma lei tese una mano per bloccarlo Aspetta Eravamo a Dover Ho letto un giornale Mi sono resa conto di quello che era successo Poi Come tu sai Sono tornata Si interruppe Richard la ferrò per il polso I suoi occhi la fissavano a fiammeggianti Sei tornata In tempo? Teo Prorruppe in una risata breve Amara Si Sono tornata come dici tu In tempo Richard Il marito Le lasciò andare il braccio Era fermo accanto alla mensola del camino La testa rovesciata all'indietro Aveva un aspetto bello e nobile In tal caso Posso perdonare Disse Ma non posso io Le parole furono pronunciate seccamente Ed ebbero l'effetto di una bomba nella stanza silenziosa Richard fece un passo avanti fissandola La mascella gli si era allentata con un effetto quasi ridicolo Tu Che cosa hai detto Teo? Ho detto che io non posso perdonare Nel lasciarti per un altro uomo Io ho peccato Forse non materialmente Ma nelle intenzioni Il che è la stessa cosa Ma se ho peccato L'ho fatto per amore Nemmeno tu mi sei stato fedele da quando ci siamo sposati Oh sì lo so Ma ti ho perdonato Perché credevo davvero nel tuo amore per me Ma ciò che hai fatto stasera è diverso E' una cosa brutta Richard Una cosa che nessuna donna può perdonare Mi hai venduta Hai venduto me e tua moglie Per assicurarti la salvezza Prese la stola e si voltò verso la porta Eteo Balbettò lui Dove stai andando? Lei si voltò a guardarlo Girando il capo sopra la spalla Tutti Dobbiamo pagare nella vita Richard Io per il mio peccato Devo pagare con la solitudine Per il tuo Beh Hai giocato d'azzardo con quello che ami E lo hai perso Te ne vai Lei Trasse un respiro profondo Sì Verso la libertà Non c'è nulla Che mi leghi qui Richard Udi la porta a chiudersi Passarono secoli O erano solo pochi minuti Qualcosa Scese Fluttuando Fuori dalla finestra L'ultimo petalo Della magnolia Morbido E fragrante L'ultimo petalo 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 L'ultimo petalo